Voglio ricordare una cosa importante, quest'anno l'anno speciale degli adolescenti, il Papa vuole incontrare tutti gli adolescenti il 18 di aprile, quindi penso che poi ci si organizzerà per essere presenti il 18 di aprile, quindi subito dopo Pasqua, e quindi voi siete tutti invitati e sarà bello incontrarsi con tanti altri adolescenti della Diocesi e delle altre parti d'Italia. Naturalmente voi vi sarete chiesti perché tra tutti i 50 decanati cui stasera si celebra questa messa di San Giovanni Bosco, io abbia scelto di venire proprio qui a Monza. A Monza, e a Monza il decanato, c'è una concentrazione straordinaria di scuole, di scuole cattoliche, di scuole di ispirazione cristiana, cioè c'è un investimento sulla educazione che forse in questa percentuale non c'è da nessuna parte. Perciò voi adesso siete venuti qui non per passare una sera così pregando e trovandovi, ma per ricevere un mandato. Voi quando andate a scuola, che andiate nella scuola cattolica o nella scuola statale o in qualunque altro posto, voi avete la responsabilità di dire ai vostri compagni che sono di Monza, che vengono da tutte le parti della provincia, che non c'è nessuno che è sbagliato, che tutti abbiamo una vocazione bella, santa, gioiosa. Ecco perché sono venuto, per incaricarvi di dire a tutti i vostri coetanei che non c'è nessun ragazzo, nessuna ragazza sbagliati, ma tutti sono chiamati ad essere amici di Gesù. Ecco perché sono venuto qui e quindi mi fido di voi e naturalmente per questo che invoco per voi la benedizione del Signore.